prima macchina viaggio martino bravo viaggio vai avanti viaggio andate emilio vado a sposta come se mi assi con foglio bene così vedi che fai vado a me vai tornando vado a me vieni a me no no non è il rito no no è il rito no no è il rito no vai vai a rito hai rito va a rito va a rito dopo è veloce ma se posso rito la mente a giallo va a riacciare no, ora c'è trovi la porta attenzione vai a rito va a rito vai 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 bravo oh dammi un pochino di cacciaio no no mi ha scolto ci ha fatto buono andò, non dai mentre niente però mi sono andato in giro Francesco non la cro hu ca gu Grazie.